il treno regionale 11 4 2 2 di tifer proveniente da rimini e diretto a bologna centrale delle ore 0 e 29 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma varignana ozzano dell'emilia san lazaro di savena bologna san vitale il treno regionale 65 79 di trenitalia proveniente da bologna centrale è diretto a faenza delle ore 0 e 51 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma emola castelbolognese il treno regionale 29 07 di trenitalia proveniente da bologna centrale è diretto a pesaro delle ore 1 e 03 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma emola castelbolognese faenza forli cesena sant'arcangelo di romagna primini primini miramare riccione misano adriatico cattolica san giovanni gabice il treno regionale 64 60 di trenitalia proveniente da faenza è diretto a bologna centrale delle ore 5 05 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma avarignana il treno regionale 29 16 di trenitalia proveniente da pesaro è diretto a bologna centrale delle ore 5 05 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma avarignana il treno regionale 64 63 di trenitalia proveniente da bologna centrale è diretto a rimini delle ore 5 19 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni eccetto rimini fiera il treno regionale 28 82 di trenitalia proveniente da rabenna è diretto a genova brignole delle ore 6 e 04 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma san lazaro di sabena bologna centrale castelfranco emilia modena rubiera reggio emilia parma fidenza fiorenzuola piacenza san nicolò castel san giovanni stradella voghera tortona arcuata scrivia ronco scrivia genova piazza principe il treno regionale 11 5 2 3 di trenitalia proveniente da bologna centrale è diretto a rimini delle ore 6 e 19 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a barignana ozzano dell'emilia san lazaro di savena bologna san vitale il treno regionale veloce 21 30 minuti ma in tutte le stazioni eccetera rimini fiera il treno regionale 11 4 16 di tifer proveniente da rimini è diretto a bologna centrale delle ore 6 e 24 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a barignana ozzano delle miglia san lazaro di sabena bologna san vitale Il treno regionale veloce, 21-21, di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Ancona, delle ore 6.46, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Emola, Castelbolognese, Faenza, Forli, Cesena, Savignano sullo Rubicone, Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni Gaddice, Pesaro, Fano, Marotta Mondolfo, Senigallia, Falconara Marittima, Ancona Torrette. Il treno regionale, 11-5-2-0, di Trenitalia, proveniente da Rimini, è diretto a San Pietro in Casale, delle ore 6.50, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 11-5-3-8, di Trenitalia, proveniente da Rimini, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 6.50, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Varignana, Ozzano dell'Emilia, San Lazzar di Savena. Il treno regionale, 2-9-93, di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Rabenna, delle ore 7.04, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, classe. Il treno regionale veloce, 21-24, di Trenitalia, proveniente da Ancona, è diretto a Piacenza, delle ore 7.05, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Castelfranco Emilia, Modena, Reggido Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola. Il treno regionale, 11-5-2-5, di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Rimini, delle ore 7.25, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 11-5-2-2, di Trenitalia, proveniente da Rimini, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 7.37, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Varignana, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena. Il treno regionale, 6-4-0-7, di Trenitalia, proveniente da Ferrara, è diretto a Imola, delle ore 7.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce, 11-4-0-7, di Trenitalia, proveniente da Piacenza, è diretto a Ancona, delle ore 7.52, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 29-31, di Trenitalia, proveniente da Piacenza, è diretto a Ancona, delle ore 7.52, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Imola, Castelbolognese, Faenza, Forli, Cesena, Savignano sullo Rubicone, Rimini Fiera, Rimini, Riccione, Cattolica, San Giovanni Gadice, Pesaro, Fano, Marotta Mondolfo, Senigallia, Falconara Marittima. Il treno regionale, 11-6-1-3, di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Imola, delle ore 8.05, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce, 11-5-2-6, di Trenitalia, proveniente da Ancona, è diretto a Piacenza, delle ore 8.09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Castelfranco Emilia, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola. Il treno regionale, 11-4-0-8, di Trenitalia, proveniente da Rimini, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 8.14, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 11-4-9-6, di Tifer, proveniente da Imola, è diretto a Ferrara, delle ore 8.23, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 29-11, di Trenitalia, proveniente da Piacenza, è diretto a Pesaro, delle ore 8.39, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Imola, Castelbolognese, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni Gabice. Il treno regionale, 64-62, di Trenitalia, proveniente da Rimini, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 8.45, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Lazzaro di Savena. Il treno regionale veloce, 21-23, di Trenitalia, proveniente da Piacenza, è diretto a Ancona, delle ore 8.46, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Imola, Castelbolognese, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni Gabice, Pesaro, Fano, Marotta Mondolfo, Senigallia, Falconara Marittima. Il treno regionale veloce, 21-26, di Trenitalia, proveniente da Ancona, è diretto a Piacenza, delle ore 9.09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Castelfranco Emilia, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola. Il treno regionale, 65-87, di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Pesaro, delle ore 9.13, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Imola, Castelbolognese, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni Gabice. Il treno regionale, 64-01, di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Imola, delle ore 9.14, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 11-4-28, di Trenitalia, proveniente da Imola, è diretto a Ferrara, delle ore 9.16, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 64-09, di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Imola, delle ore 9.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 64-08, di Trenitalia, proveniente da Imola, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 9.45, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Varignana, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Bologna San Vitale. Il treno regionale veloce, 11-5-2-8, di Trenitalia, proveniente da Ancona, è diretto a Piacenza, delle ore 10.09, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Castelfranco Emilia, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola. Il treno regionale, 64-10, di Trenitalia, proveniente da Imola, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 10.15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Varignana, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Bologna San Vitale. Il treno regionale, 17-59, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Rimini, delle ore 10.29, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Imola, Castelbolognese, Faenza, Forli, Cesena. Il treno regionale, 64-11, di Trenitalia, proveniente da Ferrara, è diretto a Imola, delle ore 10.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 11-4-1-3, di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Imola, delle ore 10.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce, 21-25, di Trenitalia, proveniente da Piacenza, è diretto a Ancona, delle ore 10.49, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Imola, Castelbolognese, Faenza, Forli, Cesena, Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni Gadice, Pesaro, Fano, Marotta Mondolfo, Senigallia, Marzocca, Monte Marciano, Falconara Marittima, Ancona Torrette. Il treno regionale, 64-20, di Tifer, proveniente da Imola, è diretto a San Pietro in Casale, delle ore 13.15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 11.593, di Trenitalia, proveniente da San Pietro in Casale, è diretto a Imola, delle ore 15.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce, 29.06, di Trenitalia, proveniente da Rimini, è diretto a Piacenza, delle ore 17.57, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Bologna Centrale, Castelfranco Emilia, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola. Il treno regionale, 17.58, di Trenitalia, proveniente da Pesaro, è diretto a Milano Centrale, delle ore 19.23, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Anzola, Samoggia, Castelfranco Emilia, Modena, Rubiera, Reggio Emilia, Santilario, Parma, Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, Casal Pusterlengo, Lodi, Milano Rogoredo, Milano Lambarate. Il treno regionale, 65.89, di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Imola, delle ore 19.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 65.70, di Trenitalia, proveniente da Rimini, è diretto a Parma, delle ore 22.07, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bologna Centrale, Castelfranco Emilia, Modena, Reggio Emilia. Il treno regionale, 65.78, di Tifer, proveniente da Imola, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 22.15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Varignana, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Bologna San Vitale. Il treno regionale, 11.616, di Trenitalia, proveniente da Imola, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 22.15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Varignana, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena, Bologna San Vitale.